L'inciviltà di qualcuno e l'assenza completa dell'amministrazione comunale, una miscela esplosiva che porta a un solo risultato, lasciare un posto pubblico nel degrado più totale. Ufficio Reclami arriva stavolta da Pagani. Ancora una volta, aggiungiamo noi, ci ritroviamo infatti a parlare delle faticenti condizioni in cui versa la piazzetta di Sant'Anna. Uno spazio che per alcuni anni è ormai stato abbandonato completamente dagli amministratori, da chi dovrebbe cercare di assicurare ai residenti un posto per trascorrere del tempo insieme e incontrarsi e poterlo fare in piena tranquillità. In questa villetta invece i residenti denunciano che da oltre due anni non c'è illuminazione pubblica, non funzionante nonostante le sollecitazioni dei residenti, nulla è stato fatto per risolvere il problema. Il passaggio dal buio alla foresta tropicale che si è creata nelle aree verdi è rapidissimo, l'erba non viene tagliata da mesi, alcune piante sono vicine alla morte perché non curate. Erba alta quindi e poi sporcizia ovviamente, ma questa è determinata anche dall'inciviltà di chi frequenta la villetta, oltre che dai mancati interventi di pulizia. Puliscono solo quando ci sono le feste, hanno dichiarato alcune persone del posto, e qualche piccolo lavoro di pulizia viene fatto di tanto in tanto dai privati e non dal comune. Al centro della piazzetta poi una fontana piena d'acqua, non funzionante, dove ci sono ancora residui dei festeggiamenti dello scorso capodanno. Le panchine non sono sicure, i muretti che delimitano gli spazi della villetta sono rotti in più punti. Meno male che la capannina dove insiste la statua di Sant'Anna non è stata ancora saccheggiata e rovinata del tutto. I residenti però chiedono un intervento immediato. I residenti però chiedono un intervento immediato, non funzionante, non funzionante, non funzionante, non funzionante, non funzionante.